Buongiorno a tutti, abbiamo oggi un ospite che è Marco Zamperini, il suo titolo ufficiale è il Chief Innovation Office per l'entità di Data, ma è soprattutto un amico di cui ti ringrazio molto per aver accettato questo invito a venire a parlare di moltissime problemi completamente all'interno della gestione digitale, vedrete la presentazione di Marco Zamperini nelle prossime ore, tra quasi tutta l'incontro di oggi, valgono le solite regole per cui interrompete e fate domande come avete sempre fatto anche nelle altre relazioni, non dico altro perché non voglio anticipare nulla della fantastica presentazione, benvenuto, grazie Buongiorno a tutti, una breve introduzione, voi conoscete ovviamente i tag HTML, quindi comincio con l'intro, allora chi sono? Se non mi conoscete io sono questo, mi vedete che impugno prestigiosamente il mio MacBook Air, sono un signore di una certa età, mi chiamo Marco Zamperini, sono un maschio che è un attributo rilevante quando ci si muove in rete, tu lo sai quel sito, sono un pacifista che è rilevante per me, no è inutile che ridi perché ci sei anche te su quel sito, ho una religione che è il culto del fare, conoscete il culto del fare, lo trovate in rete all'indirizzo cultofdan.com, sono alcune regole che vi fanno vivere meglio, questa è una stampa che è appesa nel mio ufficio a Milano, tutti i miei collaboratori sono costretti a inginocchiarsi sotto questa stampa, soprattutto queste sono alcune regole di vita che però vi consentono di essere un po' più produttive. Imparo le cose facendole, soprattutto parlando della rivoluzione digitale, la cosa importante come immagino state apprendendo è viverla in prima persona, altrimenti è veramente difficile comprenderla. Mi permetto il lusso di avere addirittura un motto, che ovviamente non è mia, una citazione di Einstein, la mente come un paracadute funziona solo quando è aperta. Io lavoro in una grande azienda, molto grande, e vi assicuro che delle volte trovo della gente che neanche sa dov'è la cordicella del paracadute, altro che tenerlo aperto. Sono nato il 2 agosto del 63, che è stato un anno straordinario, oltre al fatto che io sono nato, sono successi alcuni eventi corollari, per cui c'era un tizio che aveva dei sogni, hanno lanciato sul mercato la Vespa 90, grandissimo mezzo, hanno assassinato Kennedy, è nato Zamperini. Ho 48 anni, che non è una cosa che mi rende particolarmente felice, però ho due figlie bellissime, Blanca e Rebecca, adesso non fate come i soliti stronzi che dicono, tu sei la mamma, va bene, grazie. Questo è il blog di Blanca, la mia bambina nata nel 2001. Io sono qui per dirvi che Bruno Vespa ha ragione, internet è un posto pericoloso, perché la mia bambina ha fatto il suo blog e ha scritto sul suo blog, che sei una bambina di 7 anni quando ha fatto il suo blog, più o meno come detto, e lancia il suo blog e scrive la sua esperienza col topino dei denti. Usa anche il topino dei denti, quello che ha detto, quello che ha detto, quello che ha detto, e allora scrive, ho perso un dentino e il topino mi ha lasciato un euro sotto il cuscino, che a me sembra un nuovo coloro di qua. Allora, De Martin, che è un malvato, come avete preso qualche giorno, travestito da bambino e è andato a commentare sul blog di mia figlia, che barbore è questo figlio dei denti, a me normalmente lascia 5 euro, per questo è stato nominato economicamente da internet, perché è un posto pericoloso. Questo è il blog di mia figlia Rebecca, Rebecca invece quando aveva 10 anni, adesso va per i 16, è venuta da me dicendomi, papà vorrei il tuo aiuto per fare il mio blog. Allora io nella mia funzione di padre, come tutti i padri, perché voi avete dei padri su suono, sono paternalisti. Lui alla richiesta di mio figlio, e lei mi ha detto, perché voglio dire al mondo, che una persona disabile può essere una persona felice, perché mia figlia è nata, a caso di una malformazione, prima della mano destra, e quindi ho fatto il suo blog, che si chiama appunto Mi Mano Mi Vida, perché abbiamo, non ci facciamo mancare niente, in famiglia, abbiamo anche la nonna spagnola, queste erano dei coglioni, perché sono una fissocia mia, però questa è un'altra storia. Mia moglie se ne fa più una ragione, a un certo punto, avete il marito, capo supremo della giga dei blogger, le figlie blogger, che la sportevano, allora si è fatto un blogger. Anche lei, siccome le piace molto cucinare, è diventata una grande food blogger. Sono nato sul pianeta a terra, cosa della quale alcune mie conoscenze indubitano, sono cittadino europeo, sono italiano, vivo e lavoro a Milano, la città che tutti amate, ma sapete che è strano, perché questa lezione qui ce l'ho anche a Milano, quello di come credo. Allora, abito in via Giorgio Iann, il famoso naturalista che tutti conoscete, vi dicevi prima, vi capita di iscrivere su alcune testate, vi capita a volte di prestare degli insegnamenti, ho un nickname, sapete che, sapete cosa è un nickname? Per esempio, voi sapete che il vostro professore ha un nickname? Giorgio Iann, il vostro professore ha un nickname? Questa è un nickname? Perché qui vi fa di fregare dalla interspense, di Marco, è molto più orso di oggi. Posso far vedere le foto di quale ci spaziavano a porte? Ho fatto un ergazzo, scusate, non lo sapete mai. Scusate. Sono il funky professor. Perché sono il funky professor? Da giovane ero il funky surfer. Perché funky surfer? Perché io facevo una trasmissione a Radio Popolare che si chiamava o la buona Sulfa G3, che era un DJ, il principe dell'eserato, e il surfer perché mi piaceva molto surfare. Io e il mio cugino avevamo le tavole. In realtà quando sono passati gli anni ho cominciato a insegnare e i miei studenti, che sono maleducati come tutti i giovani, mi hanno guardato il professore ho deciso che l'anima rimaneva funky ma diventava un professor. Ovviamente siccome sapete che siamo nella supercazzola del web 2.0, sono in perpetual meta, per cui il funky professor si prende anche io. Ho un logo che mi rappresenta. Ho il mio blog ovviamente, ve l'ho detto, ce l'hanno i miei figli, c'è la mia moglie, ecco, come farlo sempre. Però il mio blog fondamentalmente è un aggregatore di tutte le cose che io faccio nei social media, è un puntatore a me, alla mia identità. Ho un avatar che mi rappresenta... nel secolo l'alpha, per esempio. Qui è il mio amico, eh? E di cosa lo fai? Ovviamente a seconda del contesto ci rappresentiamo. Chi ciò sarà la moglie? Facchissimi. Tutti che studiate basta. Ehm... Come vi leggono i cantini ho un lavoro... Cazzo di... Ehm... Ehm... C'è... Ehm... 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 Io seguo la vostra lista. A me quando vedo il messaggio di Simone... Ehm... 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 E a questo punto mi solleva delle questioni che mi dice, io non passerei mai, allora io sono il Chief Innovation Officer presso NTT Data Italia, NTT Data Italia è una società che appartiene dal gruppo NTT, NTT è il secondo operatore di telefonia fissa e mobile al mondo, probabilmente per cui o meno si deve parlare di EFITI Giacomo, che è il nostro operatore mobile, che è molto forte in Giappone e in generale referista, noi c'è un piano di system integration, siamo diverse decine di migliaia di persone nel mondo, circa 3.000 in Italia e io mi occupo dei progetti innovativi. Questo è LinkedIn, voi conoscete LinkedIn? Qualcuno di voi ha un profilo su LinkedIn? Male? Studiatelo perché LinkedIn è in assoluto il social network più frequentato dai cacciatori di test, cioè da quelli che cercano persone per posizioni di lavoro. Come funziona LinkedIn? LinkedIn è un social network business professionale. La cosa interessante è che uno sostanzialmente, come avete visto, descrive il suo profilo professionale, i lavori che ha fatto, sostanzialmente il suo curriculum e sviluppa delle relazioni. Io in questo network ho circa 5.000 contatti, che sono tutte persone con le quali più o meno, almeno una volta anche nel mondo reale, un chiaro di Egitto ho avuto rincontro e relazioni di lavoro e contatto. Ognuno di loro ha la propria rete di relazioni, quindi i contatti, i miei contatti, vedete, sono 826.400 euro, quindi con un passaggio. Con due passaggi sono quasi 14.000 persone. Questo vuol dire che se io c'erano un collaboratore e sottometto un offerto di lavoro, questo è un risposta, c'è una probabilità abbastanza alta che qualcuno che è un contatto del mio primo livello sia interessato alla posizione che offro e quindi mi risposta. Altro risposta più interessante è il fatto che qualcuno dei contatti, dei miei contatti, sia interessato alla posizione che offre. Come funziona il meccanismo di questa rete sociale? Funziona nella maniera che se un contatto di mio contatto vede la mia offerta, chiede al mio contatto di stabilire il collegamento. Questo è un perfetto esempio di come dare in appalto a qualcuno un lavoro che a cui noi non mi farei io. Perché se io avessi collegamenti diretti con tutti... C'è però altro. Devo fare lo zoom. Allora, sono i due ormi. C'è il grand'angolo di questo altro. Allora, chiede al mio contatto l'organizzazione di passare bene. In questa maniera, il mio contatto fa lui un ragionamento di fissaggio. Perché conoscendo me, conoscendo il suo contatto, dice ma vale la pena che credi questo collegamento o faccio una brutta figura? Un po' come quando andati in discoteca. Tu agganci la ragazza e gli dici, per esempio, anche no. Ecco, esattamente come sempre, i social network sono assolutamente mimici, quelli che funzionano, sono mimici della vita reale. E quindi, in questo caso, applicato al contesto lavorativo, funziona molto bene. Vi ho detto che un nickname che ho, per l'erichetta, taggo le cose e le persone. Allora, questo sbarbato qua, lo conoscete? Questo è Toon Compens, che è il CTO e founder di Netlog. Netlog non è famoso come Facebook, però fa i suoi numeri, ha un sessantino di milioni di utenti. È una delle poche start-up europee di vero successo, oltre a Skype, diciamo. Lui ha fondato questa società quando erano 17 anni e giocava nella nazionale di basket del Belgio. Qui è un paio d'anni fa, quando è felice di essere etichettato un mio tante, un antiprofesso, colpisce in profondità. Questo è Josh Bernhoff, che non so se conoscete, è un senior analyst di Forester Research e uno che ha scritto un libro molto bello sull'enterprise 2.0, che si chiama Granswell, che vi consiglio caldamente. Racconta gli usi degli strumenti di Word 2.0 nei contesti aziendati. Ed è felice di essere taggato dal funky professor. Questo è Ross Bayfield, che è un mio amico ed è uno dei major contributor di Wikimedia, che è anche capace della quale è costruita Wikimedia. Questo è lo stadio di San Siro, che anche lui è felice di essere taggato. Conoscete Anobi? Anobi è un social network nel quale uno carica, la sua libreria, la sua biblioteca, in maniera molto semplice, usando il codice numerico che ne scrive il libro. Gli STN, è quello che ho fatto. Ho difficoltà con queste parole. E la cosa divertente è che poi il sistema vi propone di match e con gli altri tempi. per cui ti dice, guarda, questo ha 300 di più in comune con lui. Questo è interessante perché è un modello di profilazione implicita, cioè piuttosto che farci compilare un modulo nel quale cosa ti piace, mi piacciono i fumetti, la fantascienza, la ragazza. hai 29 miliardi di utenti che hanno di questi esibiti, cioè non è una profilazione molto accurata. Invece, in questo caso, non so se a voi capita, io che sono ancora una generazione a cavallo, quindi anche ragionevolmente analogico, quando conosco qualcuno nuovo, e magari vado a casa sua, perché ogni volta intanto vado se c'è una libreria. sapete che ormai che abbiamo in un mondo nel quale anche il più grande venditore di libreria del mondo è Ikea, ha ristrutturato il suo prodotto di libreria di base che si chiama Bidli, che allora arreda molte case di ingegneri, perché prendendo il fatto che, rendendosi conto che la gente non legge più libri, e quindi non ne compra più, hanno fatto la libreria più profonda, perché la conversione della libreria, visto che non siete più libri, è metterci oggetti indivindicabili. Le gondole di venerette, con i conti, si hanno fatto la linea con la rete, soprammobili, di cui non ci si può prendere. Chiaramente ho un certo numero di amici che in social media mi aiutano a tenere i contatti con loro. Questa è una rappresentazione zampenivicentrica dei primi mille amici che ho su Facebook. La cosa interessante, non so se vedete, ci sono diverse colorazioni, perché ovviamente i miei amici a loro volta sono amici tra di loro, secondo diverse logiche, e quello che è abbastanza evidente, se io faccio un'analisi più accurata del grafo sociale che è rappresentato qui, è che io in effetti sono in contatto con tutta una serie di hub relazionali, cioè di persone che hanno attorno a loro una serie di relazioni che io ho intercettato grazie al fatto che sono diventato amico di amici. Le mie domande. Voi sapete che come funziona nel mondo reale quando tu hai il problema? Se vuoi è la prima cosa che fai, a parte fare una ricerca su Instagram? Chiedi a un amico, no? Cioè, tu ti si rompe lo scaldabagno? Tu non sai che cazzo è questo concetto qui, sai che, grosso modo, se funziona c'è l'altro caso, se no è un disatto. Non essendo una persona pulitissima ti dice che è un problema reale. Però, no, no, no. Allora, a quel punto, la prima cosa che fai è pensare a chi ti può risolvere il problema, oppure a chi ti può aiutare a trovare chi ti può risolvere il problema. Dati i parametri, no? Perché chiaramente come ti metti a cercare di andare sulle pagine già nette, poi mi spengo la vita. devo conoscere qualcuno di cui mi fido, quindi con cui ho una relazione di fiducia, che mi aiuti a trovare una relazione, una soluzione al problema. E perché trovo la soluzione al problema? Perché magari lui stesso è un disarabito, quindi ve lo risolvo in un problema, oppure suo papà è un disarabito, e quindi c'è un cerco di fiducia. in qualche maniera comunque penso a delle persone, ok? Questo cuore, non so se lo conoscete, è un social network dove si fanno delle domande a chi fondamentalmente ha gli amici che stanno nel posto intorno alla relazione. Io mi rendo conto che non siete abituati a delle lezioni così incappellatiche, però vi vorrei parlare sul professore. La cosa divertente è che, sì, è come Yahoo Answers in qualche maniera, però Yahoo Answers, che è tra l'altro un'esperienza molto più antica, internet, privilégia il volume, la quantità delle risposte, e quindi in realtà su Yahoo Answers troviamo spesso una grande moltiplicazione delle domande e abbastanza spesso anche risposte scarse e poco soddisfacenti, non stati in settimana diretti. Il cuore è decisamente più accurato da questo tipo di vita, ed è questo che ha reso possibile troppo portarsi uno spazio di libertà. e fare anche un fan dell'eising che c'è abbastanza di tesserezza. Allora, io vorrei chiedere... questo è il mio canutino. Questo è il mio canutino. Cresce, ma... Ok, bene. Ci sono un po' di canzio. Ci sono un po' di buplicazioni da Cosworth. Un po' di... Un po' di... Un po' di... Un po' di... Non lo sapete? Ottimo, ottimo ore. Ottimo ore in basso. E... Vabbè. Perché... Cioè, voi pensate che scherzassi? Ma io ho fatto l'analisi del mio canutino. Allora, comunque, mi trovo... Mi trovo ad amare questo account. Twitter mi ha entusiasmato dai primi momenti. Devo dire che sono stato un'ora di adotta, decisamente. Mi è piaciuto molto. Per diversi anni è stato un fenomeno abbastanza di nicchia dal mio punto di vista. Mi seguiva fondamentalmente a seguire una serie di amici americani e una serie di fonti informative. In realtà, diciamo, nell'ultimi sei, sette mesi è cresciuto molto. Io sono passato... Questo è il grafico del mio account negli ultimi tre mesi dove sono passato da fondamentalmente 13.000 oltre 15.000 follower. E, però, la cosa interessante è stata l'anno scorso dove sono passato da 3.000 a 10.000 che è stato proprio un imprendante. Perché voi sapete che Twitter ha avuto questo di nuovo troppo. No, no, benissimo. benissimo. Sì, sì, sì. Sì, sì. E' interessante perché anche nel nostro paese sta succedendo. Allora, cos'è successo? Fino a me non è neanche ci avendo sempre toccato. Perché faceva ridere, era divertente. Ovviamente dal punto di vista dei video tradizionali la cosa interessante è che diversi giornalisti e direttori interessati hanno aperto il loro account e quindi cominciate a trovare ultimamente sulla stampa come il senso della stampa che è ma qui si non chiamano però poi lo racconteranno magari meglio quando la masera questo tipo di rapporto. Però sicuramente è un media che comincia ad essere interessante anche nel nostro paese. ci sono diversi modi per misurare qual è la vostra audience effettiva perché voi sapete che i messaggi che mandate al di là di colpire quelli che sono i vostri follower possono colpire un audience molto più grande essendo retweetati citati e quant'altro. Ci sono diverse maniere di misurarlo volevo solo farvi notare che e questo è sono il reach degli ultimi 50 quid relativi al mio account e vedete che il più risultato è quello il professore che diceva sta arrivando a fare il professore e non si sa se è una benedizione o una maledizione. questo sono io su facebook come privarsi di facebook io mi ricordo ancora un po' di anni fa eravamo con un gruppo di amici a Palo Alto e arriva questo mio amico con questo giovane diceva guarda questo qui è bravo secondo me ma non ha capito vuole fare l'annuario degli studenti su internet mi sembra una boiata pazzesca aiutatemi anche voi a convincerlo che sta sprecando il suo talento e lì abbiamo fatto io ho fatto un errore nella mia vita perché mi dicevi di dire vedi un po' le azioni di facebook ma questo non cazzo farai quindi si può sbagliare vedete l'IPO che succederà dopo domani se avessi un milionesimo per cento di quelli di sarai in videoconferenza della Papua va bene è andata così facebook ormai è un fenomeno inavestabile vi rompete considerate che anche nel nostro paese che è indietro rispetto a tutte le serie di indicatori sulla partecipazione online su facebook siamo decisamente di numeri abbastanza impressionanti immaginate che oggi come oggi ci sono ogni giorno circa 21 milioni di utenti attivi su facebook attivi vuol dire che si collegano almeno 8 giorni tu perché è un 8 giorni con il non lo facebook no sicurezza c'è se è un comunista la cosa impressionante è che i numeri che ha oggi in Italia ne fanno in assoluto il media numero 1 cioè non c'è nessun altro media tradizionale che abbia questo lice questa capacità di raggiungere poi non c'è Rai 1 non c'è Rete 4 non c'è come 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 succede il mondo è già cambiato attenzione alla privacy ovviamente ecco voi pensate una cosa allora lui che è prudente non ha l'account su facebook molti di voi suppongoci quanti hanno l'account su facebook la cosa pazzesca è che ormai anche noi che nonostante i tempi continuiamo ad assumere e preferiamo assumere dei giovani i geni del mare che stanno nel nostro impartimento li sono a assumere secondo voi quando dicevano un po' di fun con certo ma non più guarda il vostro profilo facebook dove voi non essendo stati attenti ai settaggi della privacy avete le foto avete pubblicato le foto di quella sera lì quando vado a andare qui a non parlare di pubblicare e quindi io dico mmm vediamo serio lavoratore poi c'è il serio lavoratore quando sei in discoteca allora separiamo gli abiti attenzione alla privacy google plus parliamo nel senso che uno ad un certo punto dice con i mezzi che ha google con la capitale umano e monetaria che ha google possibile che non riesca a fare qualcosa che tiene in testa facebook la risposta è così come mai secondo te perché perché ormai tutti conoscono facebook tutti usano facebook allora noi a un certo punto quando è successo all'internet abbiamo detto le regole del gioco sono cambiate c'è internet c'è spazio per tutti non è detto che sia come nel mondo reale dove c'è uno che alla fine ne fa la parola ci saranno molti player che fanno molte cose magari le stesse cose e il mercato si distribuirà vivete la dimostrazione assoluta del fatto che questo non viene nel senso che facebook è arrivato non è arrivato per primo perché prima di facebook c'era la distenza c'erano altre esperienze però ha trovato la chiave giusta per conquistare e fidelizzare un grandissimo numero di utenti come ha fatto? non c'è l'internet non c'era l'internet mi era andato a lui per il volo non c'era l'internet allora la cosa che succede la cosa che succede è che facebook che cosa possiede? i nostri dati noi gli diamo tantissimi dati voi vi ricordate forse siete troppo giovani per ricordarlo qualche anno fa noi ci troviamo al centro di una guerra che era la guerra dei browser c'era una grande lotta tra dei giganti per affermare il proprio browser come strumento dominante per la navigazione su internet perché perché combattivano questi clienti perché loro volevano impagnoirsi della più grande quantità possibile di dati cioè volevano costruire il vostro profilo di attenzione il profilo di attenzione di un utente della rete è un patrimonio enorme dal punto di vista del marketing del commercio solo per la proposta commerciale facebook si vincola di tutto perché ormai in realtà facebook per un gran numero di denti è una internet di una internet è lì che carichiamo foto video commenti condividiamo c'è tutto un segmento di utenti che vive la parte maggiore della sua esperienza di internet dentro social media e quindi lì sta la cosa interessante è che mentre a livello teorico gli utenti dovrebbero rivoltarsi prendi tutti i miei dati e ci penso prendi il business la staff e invece gli utenti avranno il business quindi sono i meccanismi dovuti ad una straordinaria capacità di marketing di questa società qui google plus è arrivato troppo tardi non ce la sta facendo è legittimo accetto credito la geolocalizzazione Foursquare qualcuno di voi lo usa? dai Simone però poi lo faccio dire fai fin non sono consentimi un po' stravaganza allora Foursquare che io rimbalzo sempre i miei check-in su twitter cosa per cui sono stato comunque un altro mio giallo da basso in realtà a me diventa molto anche perché è uno degli strumenti che hanno meglio dimostrato un uso creativo della gamification cioè di far diventare giocose delle esperienze nella fine social media perché quello che fa Foursquare è per incentivare i check-in di intanto tirarli invece queste le medagliette che vedete qui per esempio sono consumatore di cibo giapponese di 7 modano adesso qui jet setter volo un casino ovviamente sono milanese per cui ho il mio badge voi sfigate i tolinesi c'era un bel qui perché ho fatto uno sforzo check-in ho fatto check-in in un posto dove c'erano già almeno 500 persone contemporaneamente a me in quella location rarissimo piuttosto che sono stato in Texas quindi qui c'è in Texano piuttosto che vari tipi di produzione che stimolano una sorta di competitività tra i vari interi poi in realtà c'è il fatto che se voi fate check-in in una location io sono qui ci sono tutta una serie di aziende che vi riconoscono degli incentivi diciamo per farvi un esempio se voi dopo una serie di volte che fate check-in in un luogo potete diventare il sindaco di quel luogo il major allora ad esempio Starbucks negli Stati Uniti se diventate major vi offre caffè c'è una banca che vi offre il pranzo la coin invece i punti di vendita subito al 20% di sconto cioè ci sono una serie di invenzioni commerciali attorno a questo fatto della geolocalizzazione volontaria che stanno diventando interessanti ma Foursquare è una bella storia anche perché è la dimostrazione che Davide contro Gorilla ce la può fare perché a un certo punto c'è Foursquare GoWalla e una serie di altri sistemi di geolocalizzazione a un certo punto Facebook dice io mi compro Gorilla e faccio Facebook Places e si termino Foursquare cosa è successo? che Foursquare prospera è successo contrario è successo contrario cioè ricordare quello che non lo immaginavo e molti analisti non prevedevano tant'è che quando Facebook ha fatto l'operazione di Places gli analisti evidenti dicono questi domani chiudono e invece non è stato per niente anche qui come mai non è successo perché Facebook funziona molto bene perché ha in tutte le esperienze che propone un'interfaccia estremamente coerente per riprodurre un'esperienza così ingaggiante come quella di Foursquare avrebbe dovuto stravolgere la visione di experience e quindi di fatto intorno non va con il sistema fareci chi su Facebook è qualcuno divertente immediato e ingaggiante e quindi non ha funzionato non ha funzionato ma non poteva funzionare non so se si è capito no da sì mi fico no devo dire che vivo spesso questa sensazione perché i miei studenti entrano in modalità come a vigile hanno i giorni di loro avatar va bene cosa mangio perché io non è che mi accontenti di dire dove sono questo è un social network che si chiama Fidmy ad esempio in cui uno racconta i riscolanti dove va e gli scrive i piatti che mangia no perché non sono grasso o rossa grasso è di costituzione cioè solo perché te sei un po' la fisica sei te che mi fanno mangio no non c'è non c'è quella che immanza sai che nel corso della giornata nel corso della giornata nessuno di me si adottara dal suo terminale mai più di 20 centri io quando vai in bagno ti può più di vabbè potrebbe essere una start-up un po' scatologica va bene ovviamente giusto per continuare perché non mi capisco posso conoscitivizzo questo si chiama fare check-in sulle professioni televisive sulle serie quindi il concetto di check-in è sempre più vasto e questo tra l'altro è un trend molto forte c'è get glue c'è tunerfish o chill dove in realtà sono tutti strumenti che vanno nel senso della social television che è un trend sempre più forte vedete come anche twitter ad esempio abbia in qualche maniera raggiunto l'accoppiamento con la televisione ci sono tutta una serie di trasmissioni televisive che vengono molto discusse in tempo reale mentre c'è la trasmissione in realtà c'è una grande conversazione su twitter rispetto allo spettacolo che si sta seguendo ovviamente il mio live stream è fatto di tante cose che sono tutte le cose che faccio nei social media quindi c'è twitter post square miso tutti i vari check-in che faccio i post che faccio poi ci sono ovviamente le foto che conoscete flicker sì è un sistema che è stato per anni abbastanza adagiato sulla sua nicchia è sempre diventato leader del podcast adesso è in sofferenza perché ci sono dei nuovi entranti che lo stanno mettendo in discussione per esempio Pinterest lo conoscete Pinterest che è molto divertente è molto attuale perché in realtà fa leva fondamentalmente sul fatto che ormai la comunicazione è molto più visuale che scritta allora il professore scrive degli articoli meravigliosi sulla stampa voi grossomodo dopo che avete letto il titolo e le tue preghe allora e De Marti non mette nessuna figura a porta perché è più difficile la lettura in realtà nel mondo una deriva perversa del successo di Pinterest è il fatto che comunicando per immagini vuole comunicare degli articoli interiabili infografici come noi siamo sommersi dall'infografico e così in una rappresentazione che è più visuale che l'escrittiva acquisiscono le informazioni questo è molto interessante perché ha un tasso di crescita abbastanza senza precedenti cioè è passato da 0 a 1000 nel giro di Tuaresi circa e sta continuando a crescere Instagram conoscete Instagram? Instagram è mi dispiace sono gli ingegneri la dimostrazione che le regole della matematica non sono portate perché fino a prima di Instagram qualcosa moltiplicato per 0 dava 0 dopo Instagram qualcosa moltiplicato per 0 dà un miliardo questi qui hanno preso un miliardo un miliardo di dollari avendo come fatturato 0 cioè fino a prima di oro si faceva magari anche un esagerato moltiplicatore del fatturato cioè tu fatturi 10 milioni io mi compro che era 5 uso un moltiplicatore 5 e la stanza loro fatturavano 0 un'azienda di 10 persone 10 persone fatturato 0 un miliardo di dollari video come se più esse mi permette l'uso di avere direttore il mio canale televisivo visto che costa niente questo è il mio biglietto da visita siccome sono anziano e mi piace essere anche un po' vintage gli ho messo il QR code il QR code qualche giorno fa sapete cos'è il QR code parlavo con con i miei colleghi e c'era uno che diceva potremmo fare una roba un commerciale diciamo potremmo fare una roba un po' innovativa mettere il QR code allora il nostro collega giapponese che è molto educato mi sembra una proposta molto interessante se vuoi ti presento il nostro collega che se ne è inventati nel 96 ovviamente la mia identità digitale come spero di aver fatto comprendere è fatta da tutta una serie di cose in cui io mi mi rappresento e questa è la cosa importante che sono io a rappresentarmi questo è un punto fondamentale se soprattutto voi che siete giovani e che cominciate adesso perché noi siamo ancora di una generazione nella quale per usare internet prima la mia vita costruiva quindi non c'era molto rispettante avete avuto qui Quintarelli che è stato uno di quelli che fisicamente ha costruito i presupposti perché esistesse internet in Italia e insomma siamo di quella generazione voi siete fortunati crescere in un mondo in un mondo internet ecc allora il tema è come usare internet a nostro vantaggio che non faccio usare come prendere il controllo perché faccio tutte queste perché faccio tutte le cose che vi ho raccontato che vuol dire non perché non ho un cazzo da fare ma anche il mestiere vi assicuro che fare il chief innovation officer viene individuata che è un lavoro individuo ma proprio perché faccio un lavoro che è anche una grande visibilità e per me è importante avere anche una visibilità anche maggiore la cosa che è veramente importante per me è avere il controllo sulla mia identità digitale è fondamentale per me che le rappresentazioni che ci sono di me in rete siano quelle che io ho descrivuto sapete che la reputazione è sempre fatta di due eventi quello che io dico di me e quello che gli altri dico di me allora se io non dico niente di me è una mia scelta però devo sapere devo essere consapevole di essere in un mondo nel quale comunque c'è qualcuno che dice qualcosa di me allora è importante per me avere il controllo sulla conversazione attuale sia che io sia un prestigioso manager di una grande azienda giapponese sia che sia un neolaureato che cercano occupare tu so se è chiaro posso posso avere delle regole si si ok simone posso è permesso dalle regole dalla tavola delle regole di ricordo ma a quanti social network appartiene guarda faccio una volta ho provato a contagi e mi sono arreso perché in realtà io sono anche abbastanza curioso quindi provo anche un po' tutte le novità poi sono entrato in questa sorta di circolo non so se viopposo o vizioso qui anche tanti nuove perché non provi fai il petatesta quindi non saprei nessun modo sicuramente più dicendo non che poi non che li usi tu però almeno dal punto di vista sperimentale sì perché ripeto ve l'ho detto all'inizio ti farò le cose facendole sono curioso pratico il punto del fare e sperimenti anche solo per dire che una cavolata una cosa di io guarda credo ma il rischio non è proprio che si appartenga al socialmento invece di farne a parte ovviamente perché dipendenza tutto quello che faccio deve essere postato ho il bisogno di postarlo ma io devo dire che sono un petto abbastanza massivo però sono abbastanza lontano dall'essere coatto questa è una riflessione che chiaramente è legittimo fare però come dire è un rischio presente un po' in tutte le varie undate tecnologiche io vi ricordo quando io ero ragazzo l'ondata addicting di tecnologia erano i videogame i videogame che erano stand alone si giocavano su Commodore 64 non c'erano neanche le consulte che ci sono adesso c'erano delle esperienze molto più rudimentali c'erano Sinclair c'erano altri oggetti che di quelli associati a memoria forse tutti li ricordano però voglio dire e lì c'erano quelli che erano come tossici una percentuale sicuramente di persone che si fanno che diventano patologiche nella tecnologia c'è un po' sempre voi siete sicuramente un'elite nel senso che vi volete il problema studiate cercate di comprendere di fare di governarlo devo dire che in realtà questo è un fenomeno che anche a vedere le ricerche colpisce un po' in più le fasce intermedie i nativi digitali sono più immuni da queste patologie cioè quelli che sono nati dove internet già esisteva dove internet è una cosa che c'è è come l'illuminazione stradale quindi diciamo quelli che rimangono più forse travolti dal meccanismo sono quelli che l'hanno incontrato nel corso della loro vita però in generale certo è un tema però apparentemente è un tema abbastanza di minchia quindi non ancora delle dimensioni tali da diventare una piaga sociale per questo il progresso e poi io immagino che in un mondo dove la consapevolezza cresce ed è più diffusa ognuno di di noi diventi fondamentalmente un ambasciatore di un pensiero positivo rispetto all'uso delle tecnologie che è il deconto che noi in particolare io prima scherzavo su Bruno Vespa però non più di tanto nel senso che noi siamo comunque in un mondo dove in generale i media tradizionali percepiscono l'aggressione dei social media degli omidia come un'aggressione e quindi cercano di far barriere allora sono moltissime le tradizioni televisive in cui vedete internet presentato come la pirateria la pedofodografia l'addiction i malati di internet ogni tanto sui giornali in televisione vedete dei titoli di commenti assolutamente sconcertanti per se eppure questo è esattamente la presentazione di un modo nel quale dei media che si rendono conto di essere arrivati sostanzialmente ma non a un punto di vista concettuale alla fine del loro ciclo di vita che figata ero ma hai fatto un uomo ma hai fatto un uomo ma hai già fatto un uomo ma hai già fatto un uomo c'è un uomo c'è un uomo e ok molto male grazie però pensavo che mi portassi un uomo in un uomo come mi trovate devo dire che funzionava un po' meglio prima che se lo comprasse la Microsoft adesso che Skype è stato acquisito la Microsoft anche lui ha subito la maledizione del blue screen per cui oppure potete scrivermi se non potete farne a meno potete telefonarmi tanto è inutile non rispondo praticamente mai e poi ho un messaggio che mi dice se avete fatto di comunicare con me mandatemi una mail di solito gli spiegati rispondono ma io non ho il diritto di mail allora con quello mi dispiace ma se sei così sembra che non sei neanche capace di avere l'indirizzo di mail con tutte le opportunità che ti ho dato evidentemente abbiamo niente da dirci detto ciò terminerei la mia breve introduzione e passerei al contenuto del mio intervento che sono le prossime 300 slide non c'è niente da ridere perché è tutto vero il professore mi ricordava di farvi notare che ho chiuso vedete che all'inizio c'era intro adesso slash intro questa è la parte didattica quindi lo slash serve per dire potresti commentare Simone no nelle dai non lo commenti lol che vuol dire lol no in inglese sei preparato rot così era per alzare l'asticena va bene allora benvenuti al mio discorso allora il futuro è adesso avete già sentito questa frase probabilmente forse questa citata citata più volte ci piace a molti di noi darci una spiegazione soprattutto quando siamo un po' frustrati perché non vediamo succedere le cose le cose le cose sono anche successe però è vero il futuro è qui ma non è uniformemente distribuito allora per darvi un po' il senso del ritmo al quale ci stiamo movendo pensate che sapete sapete cos'è un mainframe computeroni giganti al 9000 nei primi dieci anni di vita ne è stato venduto un milione di pezzi pensate che nel secondo anno di vita l'allora presidente dell'IBM disse una frase che è rimane così da noi di tutti lui disse prevedo che il mercato mondiale non sia in grado di consumare più di 50 computer nel pensamento un milione nei primi dieci anni risultato noterissimo i mini computer cioè degli oggetti computazionali con diversioni decisamente due volte nei primi dieci anni di vita ne sono stati venduti dieci milioni di pezzi risultato comunque impressionante di personal computer nei primi dieci anni di vita ne sono stati venduti cento milioni di pezzi risultato ugualmente interessante di browser internet ne sono stati venduti tra aver consegnati distribuiti nei primi dieci anni un miliardo di pezzi di browser internet per telefonini nei primi dieci anni di vita ne sono stati distribuiti oltre dieci miliardi in un grafico questo è un andamento questi sono in mobile browser ma in frame vedete una strisciolina che neanche si vede a salire la tecnologia la tecnologia del mobile internet è quella attualmente al più alto tasso di crescita di sempre in dieci anni cosa succede allora nel 2000 questo era un telefono figo qualcuno se lo ricorda? un bisteccone così però non disprezzatelo perché questo aveva la batteria che durava una settimana mica come l'alcol brutto con un display grande così verde e nero pesante questa era una chile alla picchetta chi giocava a me? tutti eh la stortelli non lo mettere qui dei vostri papà per giocare a me a consumare la batteria eh? qual era il modello chi è che mi dice qual era il modello di business di questa applicazione? un volontario dai giù i labberini si potevano comprare si potevano scaricare quanti miliardi di due hai fatto non lo sa neanche la macchia anche perché soprattutto il in realtà quello che accadeva è che questo gioco era una componente del sistema operativo quindi voi lo trovate preinstallato nella gestione non esisteva solamente un marketplace dove c'erano la Nokia aveva un marketplace di applicazioni dove c'erano tipo dieci applicazioni era un'applicazione gratuita non raccoglieva nessuna informazione sul giocatore era soltanto un consumo a tempo passano dieci anni e un terminale smart è una roba tipo questa o questa e questa è una killer application chi gioca Angry Birds c'è qualche bugiardo qual è il modello di business di questa applicazione qui sapete che recentemente ha raggiunto il miliardo di download un miliardo di download cioè è un numero pazzesco questo era il cinquantatresimo gioco di questa società specializzata in giochi per il mobile loro hanno fatto molte decine di milioni di dollari in tempo di gioco e molti di più con i percentuali sapete che questo gioco ha le magliette le i pupazzetti le casse per l'iphone fatte a forma di uccellini incazzati un gioco che voi dite vabbè allora però tutto questo è successo perché è un meccanismo molto intelligente capiamo la trama e la trama è che ci sono degli uccellini incazzati che voi tirate con la fionda addosso a dei maiali verbi e qui si vede che c'è stato il mio studio va bene ho avuto un successo così enorme perché costa molto po' il gioco nella sua versione base costa quando siete così pochi che mi sopporti allora c'è stato tra 1 e 2 dollari che cazzo non ho avuto che sentite lo del red dipende dallo schieno che marketplace frequentate allora costa di più su el broider che su web no su el broider che la parola se ti ho preferito ad ogni modo nella versione base costa 79 centenzi 79 centenzi 80 centenzi sono 1500 lire per comprare 10 righe di sotto effettivamente è un prezzo interessante anche perché la somma chiaramente di questo di questa cifra fa veramente una cifra interessante 10 anni se la Nokia avesse avuto questa intenzione sulla disponibilità del mercato a pagare in questa maniera i videogiochi forse esisterebbe ancora invece adesso ormai la Nokia come sapete è una sorta di dependance della Microsoft e quindi anche a causa loro cominciamo a vedere sul mercato e pensiamo perché ti piace la te in Windows 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 qualche numero per inquadrare il problema sapete che stanno succedendo delle cose veramente grandi ormai siamo conoscete immagino questa infografica questa descrive quello che accade in rete in 60 secondi che sono un sacco di cose in 60 secondi ad esempio c'è uno streaming su Pandora di oltre 13.000 ore di musica mostruosa vengono scaricate oltre 13.000 applicazioni per agli in un minuto poi ve le lascio queste se mi incuriosisce però la cosa interessante è che veramente c'è un'enormità di cose che succedono in un tempo che è molto piccolo allora siamo ormai nell'era dello zettabyte sapete cos'è uno zettabyte? pronti 2 alla settantesima byte è questo è questo 10 10 alla ventunesima numero allarmante cioè un 1 con tantissimi 0 abbastanza 0 alla terza tanti 0 così non li abbiamo visti tranne il mio compito divertivo e questo per darvi un'idea è l'andamento del traffico dati in rete worldwide misurati in exabyte cioè 10 alla diciottesima vedete che c'è una progressione che è abbastanza allarmante per darvi il termine di paragone oggi come oggi il consumo di traffico dati generato da 20 appartamenti 12 quindi collegati mandalaga alla rete con i barati eccetera 20 appartamenti è uguale a tutto il traffico di internet nel 1996 entro la fine dell'anno si calcora ragionevolmente che avremo 2.3 miliardi di utenti collegati alla rete al mondo alcuni dicono 2.5 quindi ci avviamo veramente su cifre importanti oltre 700 miliardi di minuti al mese passati su facebook ogni secondo abbiamo una nuova adesione al linkedin social network che vi raccomando di studiare perché è molto molto importante soprattutto quando sarete alla ricerca di un lavoro immagino che sia un obiettivo che prima o poi vi farete e voi dovete pensare che chi vi fa il colloquio è uno tipo basso cerco a perdere però è che sono venuto con i mezzi e sarebbe a dire nel mondo allora sappiate che oggi come oggi ci sono ogni giorno 40 miliardi di messaggi di posta elettronica spazzatura 40 miliardi al giorno il dato che ci conforta è che più del 50% della popolazione mondiale ha meno di 30 anni quindi non tutti i paesi sono fatti di vecchiazzi come il nostro paese e vediamo vi do un piccolo assaggio di come sono questi nativi digitali sapete chi sono i nativi digitali blanca che scuola fai quinta con la massima disinvoltura questo qui è l'iPhone che è un comune cellulare che è diffusissimo non è da meno è stato uno dei primi cellulari touch che si comanda con le mani al corso dei tasti a 10 anni quest'altro cos'è? è un nuovo cellulare appena uscito già sa tutto si può connettere a Xbox Live che? Xbox Live sai cos'è l'Xbox? no è praticamente come la Wii come la Wii ma che è sta roba? al pari di blanca al posto di usare il vocabolario perché non lo trovo vado su Google mentre Leonardo quanti anni hai? 7 già da 4 anni come mostra questo video di quando era piccolo questo era il mio computer di quando era piccolo manda email scrivi a chi lo vuoi mandare a destra e poi tu scrivi cosa vuoi scrivere e chi intra poi quando hai finito spungi send padrone incontrattato a che serve il destro e il sinistro? dei pulsanti del mouse il resto è tipo per aprire questa pagina dentro il tipo di sinistro se sei su YouTube musica e pausare che in 4 e 4 8 poi io guardo su email e foto mi scatta una foto scrivo questa e me la spedisce poi scrivo il target scrivi il il soggetto ah scusa dopo il specchio send ma stai a mandare? si si è già partita quando ti connetti l'email parte e dopo un po' arriva ma per blanca con gli amici mi scambiate le email l'email è già il passato preferisco chattare perché mi aspetto una risposta in idea cos'altro ci fai con il computer? scarico applicazioni che vuol dire scaricare applicazioni? vai su app store cos'è l'app store? è una specie di marketplace e che è il marketplace? secondo te io le capisco tutte ste cose? no e da chi si capisce? ogni volta che ti rispondevo tu facevi mmm e io pensavo che non capivi cosa dicevo i nativi digitali tu a me me vedi come il vecchio no e la tecnologia non è il centro della vita no non è il centro della vita e il centro della vita invece cos'è? mmm non lo so ho dieci anni non ne ho la più parata idea chi ce l'ha le bambole? no ho sempre piatto le bambole perché? che hanno hanno questo un vigilo inquietante che continua a fissarti con quegli occhietti che vuoi fare da grande? mi piacerebbe fare l'astronoma studiare le stelle e le guardi mai le stelle fuori? qualche volta andiamo in campagna dai miei nonni e lì si vedono dei bellissimi cieli stellati e che pensi? penso che belle e tra internet e il cielo stellato che ti piace di più? entrambi adesso che me l'hai detto mi sono immaginata qualcuno davanti al computer sotto un cielo stellato ok allora io intanto vi chiedo scusa perché mia figlia oggi era impegnata sta facendo una sta tenendo lezioni a Harvard quindi non è non è ha preso il posto di De Martin e non è potuta essere con voi ha mandato me in sostituzione e